Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandra Veronese, sono Clinical Operations Beijing e come Beijing siamo contenti e onorati di poter supportare la formazione Eupati perché crediamo nel coinvolgimento del paziente formato in tutte le fasi di ricerca e sviluppo del farmaco e non solo. Io stessa ho seguito il corso e sono quindi un paziente esperto, un paziente esperto Eupati e posso testimoniare che è stata un'esperienza molto utile, formativa, informativa, quindi ne approfitto per fare un in bocca al lupo a tutti gli studenti che si certificano come paziente esperto Eupati quest'anno.